Manca un mese esatto al matrimonio reale tra il principe Harry e Meghan Markle e le autorità si preparano per la più grande operazione di sicurezza mai allestita nel regno per un evento pubblico. Più di 100.000 visitatori sono attesi il grande giorno nella cittadina di Windsor dove si celebra la cerimonia. Le autorità della Thames Valley Police e le unità cinofile nella giornata di giovedì hanno passato al setaccio la zona controllando cabine telefoniche oltre a pattugliamenti in ogni quartiere. Delle barriere per impedire il passaggio delle auto saranno allestite per evitare incidenti. La polizia che si occupa dei trasporti ha fatto sapere che ci saranno centinaia di agenti in incognito il giorno dell'evento. La Gran Bretagna attualmente è al secondo più alto livello di allerta terrorismo. Lo scorso anno sono stati cinque gli episodi classificati come attentati nei quali sono morti 36 persone.